You are tuned to Alexa's Pro's channel Gear Fit, il wearable più cool del momento da poco disponibile sul mercato In questo video andremo ad analizzare in pochi istanti tutte le caratteristiche del nuovo smartwatch di Samsung Parlando di caratteristiche tecniche salta subito all'occhio il display AMOLED curvo da ben 1,84 pollici Una chicca per stupire amici e parenti Interessante inoltre è anche la presenza della certificazione IP67 Che è come quella di S5, ovvero permette di immergere il dispositivo fino a 30 minuti senza recare danni allo stesso Ottimo visto che questo è un dispositivo orientato verso il fitness Gear Fit si connette al nostro dispositivo che attenzione può essere solo Samsung Tramite Bluetooth 4.0 LE, ovvero a basso consumo energetico Questo per visualizzare le notifiche delle nostre app preferite sul fantastico display curvo Tra le app configurabili troviamo anche Facebook e WhatsApp Ma è andando ad analizzare il vato fitness che nascono i problemi Il dispositivo infatti è altamente impreciso Anche nel rilevamento dei battiti cardiaci E si pone come una via di mezzo tra uno smartwatch e un dispositivo per sportivi Insomma, per 200€ vi porterete a casa un oggetto abbastanza inutile, ma di stile Andando ad analizzare la confezione all'interno Troveremo solo il wearable Un cavetto standard micro USB per la ricarica E la manualistica varia di Samsung È bene ricordare che per la ricarica bisognerà utilizzare uno speciale dock Fornito all'interno della confezione Quindi attenti a non perderlo, è molto piccolo